Gli europei sono divisi sulla gestione della pandemia da parte dell'UE. Secondo un sondaggio esclusivo condotto da Ipsos per Euronews in 18 paesi dell'Unione, solo il 40% approva quanto fatto. Il 32% non ha invece un'opinione né positiva né negativa. Tuttavia, tra le questioni che preoccupano gli europei in vista delle elezioni di giugno, la gestione della crisi sanitaria da parte dell'UE è quella che goda del maggior sostegno nell'opinione pubblica. Ci sono però delle differenze tra i paesi membri. Se in Portogallo il 74% degli intervistati approva la gestione del Covid, solo il 24% dei ciechi si è detto favorevole. Quanto agli italiani, il sondaggio rileva parere positivo dal 42% degli intervistati, negativo dal 31% e gli altri sono indecisi. Per l'Alleanza europea per la salute pubblica la risposta comune al Covid è stata fondamentale. per rispondere all'emergenza. l'Unione ha varato un meccanismo senza precedenti, l'acquisto congiunto di vaccini. Lanciato a giugno 2020, a fine 2021, l'UE aveva acquistato 4,6 miliardi di dosi per un valore complessivo di 71 miliardi di euro. Un programma sanitario comune da oltre 5 miliardi e ora in vigore fino al 2027. At the high-level event of the Belgian Presidency of the Council of the EU, it was made very clear at the ministerial panel that was it not for the joint EU action on vaccines and vaccine procurement, there would be no way to achieve the vaccine equity that was achieved during the pandemic. So health is key, but EU roles in health is also key. Il sondaggio ha anche rilevato che chi vota centrodestra ha una visione più negativa della gestione della pandemia. Il picco, 49%, è tra gli elettori del gruppo Identità e Democrazia.